Radio DGS, l'informazione. La politica Mario Chiuto parte da Fuscaldo con i suoi incontri in vista delle elezioni regionali in Calabria. Il primo obiettivo è portare 5 milioni di turisti stranieri e investire sul turismo aiutando enti e strutture ricettive. Questo ha dichiarato il primo cittadino di Cosenza, aspirante governatore della Calabria, al collega del Quotidiano del Sud Massimo Clausi. La sanità, il consigliere regionale Gianluca Gallo, chiede interventi urgenti per il 118. Mancano gli autisti delle ambulanze, il distretto di Praia Mare, quello che sta pagando il prezzo più alto. Un allarme che non può essere preso sotto gamba. A San Nicola Arcella, il capogruppo di minoranza Gianpaolo Errigo interviene sulla carenza idrica. Quest'anno il problema si è presentato prima del previsto, ha detto ai nostri microfoni. Cosa aspetta l'amministrazione ad intervenire? Dal Cilento a Sapri riempi una bottiglia da mezzo litro con cicche di sigaretta, consegnala nei nostri infopoint e avrai degli sconti. È l'iniziativa della Proloco di Sapri con cui si cerca di sensibilizzare turisti e non sul problema dell'abbandono delle cicche di sigaretta per strada e sulla spiaggia. Un modo per dire no a una pratica che degrada l'ambiente. In Lucania, a Maratea, domani sera alle 20.30, l'iniziativa Passeggiando sotto la Luna, partenza da Piazza Buraglia nel centro storico per arrivare al Cristo di Maratea per assistere all'eclissi lunare. La partecipazione è gratuita. È tutto, grazie per averci seguito.